Un cordiale saluto a tutti gli amici di Trevi Meteo. Prima di occuparci di quella che sarà l'evoluzione meteo della tendenza riferita alla prossima primavera, caro Francesco, andiamo a vedere un po' quello che è stato l'inverno fino ad oggi. Esatto, lo vediamo attraverso questa rappresentazione grafica delle temperature, delle anomalie temperature in Europa. Il rosso parla chiaramente di un inverno che non c'è, non c'è stato in sostanza. Quindi temperature superiori alle medie stagionali un po' ovunque, in particolar modo lo vediamo anche qui nella cartina sul comparto centro-occidentale dell'Europa. Nonostante sull'Italia centro-meridionale a metà gennaio abbiamo avuto anche un'irruzione fredda, con anche nebicate fino a quote basse, anche se è stato un episodio di breve durata. Un episodio che in realtà non ribalta un quadro di una stagione anonima. Una situazione che ce l'eremmo aspettata in avvio di stagione, lo dicevamo, che sarebbe stato un inverno sottotono, diciamo che è andato al di là di ogni aspettativa, tant'è vero che la seconda parte invernale più fredda in realtà non c'è stata. Sì, diciamo che l'unico lato positivo, almeno per il momento, è stato un inizio d'inverno molto secco sulle regioni settentrionali, in particolar modo sull'arco alpino, ma per fortuna nel corso delle ultime settimane almeno la neve sulle Alpi è ritornata in abbondanza. Diciamo che ci sono dei peggioramenti più di stampo autunnale o primaverile. Esattamente, all'invernale c'è poco. Ma andiamo a vedere quindi quella che sarà l'evoluzione secondo Trebi Meteo per la prossima stagione primaverile. Ebbene, qui vediamo come probabilmente, quindi si tratta di tendenza a medio-lungo termine, non di previsioni, questo vogliamo sempre ricordarlo. Esatto, sono degli scenari che non hanno a che fare con le previsioni del tempo, perché non andremo mai a dire se a Milano, a Romo, a Torino ci sarà la pioggia e il sole. Ci basiamo sempre sulle statistiche, su tanti altri parametri, che però non sono quelli normalmente utilizzati per la normale previsione meteo. Esattamente, esattamente. Quindi vediamo come appunto nella primavera ci saranno diversi episodi, ancora una volta per l'Italia, ma anche in generale per l'Europa centro-meridionale, caratterizzati da un clima ancora particolarmente mite, ma tratti instabili. Infatti pare arriveranno nuove perturbazioni atlantiche. Sì, diciamo che ci sarà sempre quest'alta pressione, ma che farà passare queste perturbazioni fuori aeree di precipitazione. L'anticiclone sarà sempre protagonista. Nel frattempo questo anticiclone è posizionato in particolar modo sul comparto occidentale del continente, il bacino ovest del Mediterraneo, riuscirà sul suo bordo orientale, a tratti anche, questa è l'immagine relativa al mese di marzo, a favorire la discesa di masse d'aria fredda dai Balcani in direzione dell'Europa orientale. A tratti sembra che marginalmente potrebbe interessare anche l'Italia. Sì, rispetto al mese di febbraio l'anticiclone dovrebbe un pochettino posizionarsi più a ridosto dell'Italia e questo favorire anche dei periodi stabili, ma anche con dei rapidi e repentini capovolgimenti di fronte. Quindi un po' più stabile invece al nord ovest e sui versanti di Ponente con questa evoluzione. Esatto, dovrebbero essere le precipitazioni meno probabili. Vediamo il mese di aprile. Aprile sembra che l'alta pressione si ritiri ulteriormente verso Ponente. Questo favorirebbe ancora la discesa di masse d'aria un po' più fredda dell'Europa settentrionale, quindi una fase un po' instabile sul Mediterraneo, la formazione di qualche depressione, un clima quindi un po' più piovoso sulla nostra penisola. Sì esatto, perché l'anticiclone avrà sempre la sua raccoforte tra il Medio Atlantico, la Spagna e la Francia, tenderà ad allungarsi verso la Gran Bretagna e poi successivamente verso la Scandinavia. Questo dovrebbe favorire degli scambi, vengono chiamati scambi meridiani in gergo tecnico, quindi la possibilità di situazioni instabili o a tratti perturbati. Vediamo quindi infine il mese di maggio. Maggio dovrebbe vedere una caratteristica in cui l'anticiclone migra verso la Scandinavia e l'Europa centrale, quindi di conseguenza c'è questo flusso di aria più fresca da est o da nord-este. Siccome siamo nel primo di maggio, quindi quasi prossimi all'estate, ci sarebbero condizioni temporali, special modo sulla dorsale e le zone interne. I classici acquazzoni pomeridiani, quindi temporali di calore, che si sviluppano nelle ore più carde della giornata in prossimità dell'aria interna e collinaria e montuosa. Quindi si passa sostanzialmente nel mese di maggio da mattine generalmente soleggiate e tempo un po' più instabile invece nelle ore pomeridiane, e quindi ombrelli a tratti anche a portata di mano. Esatto, tutto sommato la primavera dovrebbe essere nel complesso mite, quindi un sopramedia termica. Molto bene, Francesco, noi per il momento vi salutiamo e vi invitiamo come sempre per ulteriori dettagli ad aggiornarvi su trebimeteo.com Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.